Ci sono volute 19 sedute di Consiglio Comunale, quasi uno strappo di maggioranza tra PD e Sinistra Italiana, per approvare la delibera per l'istituzione del mercatino etnico nel tunnel della stazione centrale di Pescara. 20 mesi fa ci fu lo sgombero dell'area di risulta occupata abusivamente dagli ambulanti della comunità senegalese, accusati anche di vendere merce contraffatta. Ieri sera l'assise civica pescarese ha approvato con 16 sì e 11 no la ristrutturazione del sottopassaggio, oggi inutilizzato, che costerà circa 250 mila euro. Successivamente si dovrà fare un bando per individuare il gestore dell'area. Quello abbiamo investito 250 mila euro per ristrutturarla, per dargli la reazione, per mettere le telecamere, per fare tutto nei crismi della legalità. Cosa che sarà fatta, i senegalesi hanno fatto una cooperativa, non era mai stata fatta, si sono impegnati ovviamente a vendere prodotti non contraffatti, perché è contrario alla legge, non lo potrebbero fare, sanno benissimo che se lo facessero chiuderebbero il giorno dopo. Sempre contrari all'istituzione del mercatino etnico, gli esponenti della minoranza di centrodestra, che avrebbero voluto inserire gli ambulanti regolari all'interno delle aree mercatali già presenti in città. Dai banchi dell'opposizione assicurano che se arriveranno al governo nella prossima tornata elettorale, cambieranno questa delibera abolendo il mercatino etnico. La sinistra ha fatto un'altra scelta, una scelta ideologica, dettata dalla sinistra più retriva, realizzare all'interno del sottorelevato ferroviario, nell'area di risulta, dovrà nascere la nuova Pescara, perché sicuramente quell'area si svilupperà in un senso completamente diverso da un mercatino multietnico, pseudo multietnico, come abbiamo sempre detto. Non era giusto così, hanno scelto di farlo. Noi abbiamo votato contro, ovviamente, combattendo fino alla fine. Critiche al mercatino etnico vengono mosse anche dalla Confcommercio di Pescara, che esprime delusione sconcerto per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della delibera. Si tratta, continua l'Associazione dei Commercianti, di un progetto sbagliato che utilizza preziose risorse pubbliche, osteggiato dai commercianti e dalla maggior parte dei cittadini.